Allora Di Giorgio, partita e lascia la mano in bocca? Ah sì, purtroppo sì, noi ce l'abbiamo messa tutta, non era facile. Dopo trovare il vantaggio, andare subito, prendere subito l'1-2 su due disattenzioni, siamo stati bravi tra il primo e il secondo tempo a riordinare le idee e penso che poi nel secondo tempo abbiamo dimostrato il nostro valore, l'abbiamo provato in tutti i modi per riprendere la partita e abbiamo anche cercato di vincerla. Obiettivamente dalla tribuna sembrava di vedere in certi tratti quasi soltanto una squadra in campo, la Torres per quanto di valore ha giocato quasi esclusivamente di rimessa. Ah sì, loro lo dicevano anche in campo, sentivo tra di loro che parlavano, e dicevano che praticamente non ci stavano capendo niente. Noi facciamo il nostro gioco, sappiamo com'è il gioco del nostro allenatore, facciamo quello che ci chiede e porta proprio questo, gran possesso palla, molte occasioni da gol. Siamo stati meno fortunati questa volta a concretizzare tutte le occasioni che abbiamo creato, però ci tenevamo a vincere questa partita, a portare il risultato pieno a casa, però considerando come si era messa la partita ci va bene anche, accettiamo anche questo punto, l'importante era non vincere, adesso stacchiamo un po' la spina, nello stesso tempo lavoriamo e cerchiamo di fare un giro di ritorno dove non possiamo più sbagliare. Grazie mille.